Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, eccoci qua sul mio canale mercoledì 27 di marzo arrivo tardi dopo una giornata molto intensa e piena al lavoro e voglio così dopo i contenuti dei giorni scorsi voglio dibattere con voi un pochino il prosieguo cioè mi spiego abbiamo parlato della possibilità che soulet lasci la juventus della possibilità che den hausen possa finire come contropartita nell'operazione cup miners abbiamo parlato dell'importanza di canan il dis e allora voglio parlare con voi di chi potrebbe essere o di chi eventualmente voi sacrifichereste il nome del bilancio e della possibilità di fare mercato e allora ne parliamo qui insieme prima come sempre grazie sempre per il seguito che date al canale continuate a farlo è un gran piacere iscrivetevi al canale youtube se già non siete iscritti azionate la campagna notifiche mettete un bel pollicione in fondo all'alto alla puntata verso l'alto in fondo la puntata sperando che possa essere stata di vostra compagnia dunque io mi sono espresso chiaramente a mio modo di vedere mattia soulet è un calciatore che ha un grande avvenire davanti a sé è un giocatore di proprietà della juventus è un frutto del lavoro di scouting e anche del diciamo progetto settore giovanile juventus next gen prima squadra con l'ottima scelta ad inizio di questa stagione insieme a caio giorgi e a barenecea di essere mandati a giocare con maggior continuità che non alla juve in prestito in una squadra di serie a e più o meno tutti e tre chi più chi meno chiaramente ha colto perfettamente questa possibilità mettendosi in mostra esibendo prestazioni interessanti e attirando su di sé interessi anche di squadre di altre leghe ma comunque anche altre squadre di serie a questo evidentemente è il processo corretto che la juventus ha intrapreso e che deve intraprendere eventualmente con altri giovani che escono dalla next gen per non buttarli immediatamente in prima squadra e finire per farli utilizzo termine nudo crudo grezzo come marcire ma in senso buono comunque ad aspettare che arrivi il loro turno quel turno che poi fondamentalmente non arriva mai ora però mi sono anche risentito dinnanzi alle tante buttade giornalistiche o anche realtà giornalistiche che scrivono di una possibile partenza di questi giocatori trattati come se fossero delle plusvalenze viventi c'è il termine plusvalenza in casa juve forse è meglio evitarlo ma a parte gli scherzi io credo che per una juve che debba eventualmente affidare il nuovo corso ad un nuovo allenatore che sappia lavorare meglio con i giovani ecco da questi giovani non si possa prescindere e allora ieri ho twittato si dice ancora no anche se oggi è x ma non si dice xato si dice twittato che secondo me laddove la juve non deve andare a spendere un euro è proprio il reparto d'attacco che non significa che il reparto d'attacco non possa essere migliorato ma la juve oggi ha delle priorità che a mio avviso sono sicuramente impellenti sicuramente maggiormente importanti rispetto appunto ad intervenire in attacco e perché vi dico questo perché si fa un gran dire un gran parlare dell'interesse della juve per gudmusson del genoa senza nulla togliere a gudmusson del genoa io mi domando e vi domando ma la juventus con dujan vlahovic con federico chiesa con arek milic con moise kin con kenan il dis con il rientrante mattias sulle ovvio avremo più competizioni ci saranno molte più partite però forse sei attaccanti sono troppi quindi magari uno potrebbe essere messo sul mercato e partire ma deve valutare di andare a spendere soldi per gudmusson sacrificando eventualmente mattia sulle ecco secondo me questa è una scelta che sarebbe completamente sbagliata e sono orgoglioso e felice di avere questo pensiero che è stato confermato non perché lo abbiano voluto confermare per il sottoscritto ma perché hanno lo stesso mio pensiero da due grandi bianconeri del passato uno ho avuto l'onore di intervistarlo di essere stato insieme a lui ospite a tv play l'altro ho provato ad intervistarlo non mi è ancora riuscito e se avrò tempo proverò ad insistere sto parlando di ravanelli colui che ho intervistato e alessio tacchinardi colui che non ce l'ho fatta hanno il mio stesso pensiero se hai kenan il dis se hai denhausen se hai matti sulle te li tieni tutti e tre per una juventus che deve ritornare a costruire un ciclo attraverso l'abbattimento dei costi attraverso costi più sostenibili non puoi prescindere da questi che sono oltre ad essere giocatori frutto del tuo settore giovanile o comunque del tuo scouting e che quindi sono già di tua proprietà non puoi prescindere da questi che hanno i colpi del campione da questi che sono dei talenti che hanno un futuro importante davanti a sé e quindi vi chiedo senza stare a fare tanti giri di parole perché parliamoci chiaro la juve nel prossimo mercato auspicando che possa essere un mercato interessante io l'ho detto dovrebbe intervenire sicuramente in mezzo al campo dove per in mezzo al campo io credo che la juve innanzitutto avrebbe bisogno di un regista locatelli non è un regista locatelli se lo vuoi tenere devi metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio nel suo ruolo naturale di mezzala io ricordo i locatelli del sassuolo ricordo i locatelli dell'europeo che era sì una riserva se non sbaglio di barella ma quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo e lo ha fatto bene vedo questo locatelli vedo un giocatore totalmente diverso totalmente involuto e il mio pensiero è lo stesso pensiero di ravanelli e di tacchinardi tra l'altro con ravanelli abbiamo avuto modo anche di esprimere lo stesso concetto in trasmissione insieme ovvero che non hai tempi di regista tacchinardi e locatelli è un calciatore che ha un tempo di più di gioco per poter ripropere quel ruolo e quindi la juve dovrà intervenire a centro campo e poi ho detto secondo me la juve dovrà intervenire sugli esterni bassi dove per esterni bassi si intendono ovviamente i terzini i terzini perché io auspico con di tutto cuore che la juve prenda un allenatore o qualora anche rimanesse allegri sulla panchina non mi veniva scusate auspico la difesa 4 e allora lì dovrebbe intervenire anche la mia cagnolina auspica la difesa 4 e allora lì dovrebbe intervenire la juventus ma senza stare a fare i propri giri di parole troppe illusioni qualcuno deve partire voi chi sacrifichereste io credo di avervelo già detto e lo ribadisco è a malincuore devo dirlo ma con rientro di denhausen con i già presenti calciatori che ha in rosa nell'eventualità si andasse a fare anche un colpo a parametro 0 perché non dimentichiamoci che giuntoli è attento anche alla possibilità di inserire in organico 1 barra 2 parametri 0 probabilmente sacrificherei gleson bremer che è cresciuto tantissimo che mi piace tanto e che mi dispiacerebbe cedere ma qualcuno dovrà partire oggi cedere chiesa secondo me sarebbe una follia per due motivi 1 perché non è questo il vero chiesa 2 perché oggi da chiesa non monetizzeresti quello che si può monetizzare dall'accessione di un calciatore di quel livello che sta performando male che non sta esibendo grandi prestazioni e quindi non sta tirando il giusto interesse su di sé però giustamente su chiesa c'è il discorso relativo al contratto stessa cosa dicasi per dujan vlahovic ma io personalmente dujan vlahovic oggi non lo metterei in discussione fatto salvo che non cedi vlahovic ad una cifra importante e non per una cifra superiore eventualmente inferiore o comunque la stessa cifra ma mai di più andrei a prendere un zilze però siccome voglio rimanere coerente con il concetto questo è per dirvi che zilze è un calciatore che mi piacerebbe tanto ma siccome rimango coerente con quello che ho detto cioè che oggi la juve a mio modo di vedere non deve spendere un euro nell'attacco perché in attacco è dove probabilmente potresti avere meno problemi ma devi rafforzarti dietro devi mettere in condizione i calciatori di esprimersi nel loro ruolo e chi deve segnare essere messo nei condizioni di farlo con un centrocampo che sia qualitativamente decisamente superiore alla mediocrità di quello che purtroppo ci si sta abituando a vedere in questi ultimi tempi e allora chi sacrifichereste voi in ragione del bilancio e in ragione del fatto che probabilmente almeno un sacrificio la juventus dovrà farlo posto che mckenny potrebbe essere uno perché si è rivalutato perché un calciatore che per carità sta facendo un gran campionato ma non è colui che ti fa fare il salto di qualità e allora parliamo di un big io personalmente ve lo dico Gleason Bremer ditemi la vostra ci stiamo presto come sempre fino alla fine ciao